cari amici buona settimana allo zioac migliorati.org per molti ma non per tutti diciamo anche per pochi lo spacciatore di fiducia delle informazioni e trucchi segreti eccetera dal 1998 allora settimana inter mese interessante perché questo mese in hna la mia chiamiamo università del miglioramento personale perché nel self help ci piace sempre gonfiare le cose se non gonfi le cose fai un marketing normale non ti caga nessuno quindi bisogna sempre cosa parliamo di un argomento molto importante come farsi tanti amici qualcuno lo chiama networking ecco a me non piace perché mi è capitato vi sarà capitato a tutti di essere tra virgolette vittime del networking di quelle persone che arrivano qualcuno se lo ricorderà in uno dei corsi arrivano parlano un po con tutti e poi lasciano il bigliettino in quel momento ti sei reso conto che tu non eri visto come una persona ma come un mezzo uno strumento e questo attenzione che in psicologia esiste the dark triad lascio agli psicologi amici spiegare meglio la cosa di la triode oscura ecco recentemente ho fatto un corso come diventare batman come diventare il cavaliere oscuro in hna deluxe che è piaciuto tantissimo probabilmente piaciuto più di tutti gli altri corsi ecco ma non è non è su quello non è quello che pensate è proprio una cosa diversa su come raddoppiare le proprie prestazioni istantaneamente con un semplice concetto ma è una cosa diversa comunque per quelli di hna solo per gli iscritti voi non vedrete niente se siete frequentatori del blog social podcast tutto dove spargiamo i nostri messaggi non vedrete nulla quindi vi consiglio se siete interessati di scrivere verrà proposto comunque esiste questa triade oscura di narcisismo psicopatia e macchiavellismo che cos'è il macchiavellismo anche lì meglio che ve lo spieghi noi psicologi però di base il concetto è di quelle persone che fanno schemi complottano mi è capitato 30 e pass 30 anni fa di trovarmi a una cena invitato a uno di un gruppo giovani allora giovani famoso di quei gruppi sociali dove le persone si si mischiano al di là della ottima frequentazione femminile devo dire del gruppo al di là del fatto che mio amico non mi ha avvertito che era una serata formale e quindi io ci sono andato a huaiano praticamente con camicia huaiana maniche corte e pantaloni non mi ricordo comunque ero ero gli altri erano praticamente tutti in smoking al di là di tutto questo mi sono trovato di fianco a un gruppetto di tre ragazzi di giovani politici e lì era una cosa tremenda questo lo facciamo fuori questo tutta sera a parlare in questo modo ecco quello è ma in breve è il macchiavellismo sono le persone appunto gli esseri umani sono persone non sono mezzi non sono strumenti ecco perché all'inizio il tito era networking ci ho tirato una grossa croce rossa con me farsi tanti amici perché perché è importante perché è partito da lì il self help uno non lo cito mai ma uno dei primi libri che ho letto prima probabilmente di quelli di robbins che sono sicuramente i primi due due libri molto motivazionali e chi li ha letti poi ha proseguito nel cammino del miglioramento ecco era quello di dei carnegie come farsi influenzare gli altri e farsi degli amici al di là dell'influenzare che qualcuno in realtà è un ottimo libro con ottimi suggerimenti infatti vi farò non faccio mai i riassuntini io nell'hna però magari una revisioncina ce la possiamo anche fare anche perché poi sono usciti altri libri con 5300 punti e questo è un altro grosso problema del self help come ripeto un libro che è uscito adesso non so dovrei andare a cercare in che anno e ancora oggi è attuale vuol dire che cacchio è un ottimo è un ottimo libro quindi vale la pena ancora oggi leggerlo tra l'altro dei carnegie ne hanno altro sullo stress poi per favore mettetemi lì nella bibliografia carico laboratori e neonato sullo sullo stress che è un altro libro molto interessante ecco tante volte pensiamo che i libri più recenti siano i migliori ma in questo caso non è non è così ne metteremo anche in caso uno magari recente ma non mi sembra comunque è il self help è partito proprio dal concetto di riduzione dello stress che sappiamo essere la base della piramide del biohacking primo passo che anche attenzione perché è importante una piramide così perché è un modello basato sulle ricerche quindi che non fa altro che mettere in ordine le priorità delle ricerche attuali che è anche un modello diagnostico e prescrittivo nel senso che se uno segue quella piramide e si trova in quei momenti della vita in cui la vita ti prende a calci in faccia tipo ti viene diagnosticato qualcosa viene diagnosticata qualcosa ai tuoi cari ci sono passato varie volte col papà con la mamma e la sequenza è quella lì mettere a posto lo stress mettere a posto poi il sonno e mettere a posto poi la nutrizione e infine l'aspetto del movimento tutti questi aspetti essenziali manucoso poi se notate la punta è staccata perché pillole tecnologia possono avere un grosso impatto e possono essere applicate a qualsiasi dei livelli sotto però purtroppo devo dirvi che il settore della tecnologia non è al momento maturo lo so che a molti di voi fanno impazzire questi traccherini ste cose da polso gli anellini e tutto li ho provati tutti trovate qualche anche la mia recensione sul canale youtube però poi alla fine la mia conclusione che ancora non è matura non ci danno mettiamo così versione complottista che piacerà tanti non ci danno ancora la roba che funziona davvero ecco e anche nei supplementi soprattutto in italia se andate su amazon e così c'è o stanato le cose delle cose efficaci ma le cose davvero efficaci si fa fatica ecco mettiamola mettiamo così comunque perché perché è importante avere tanti allora chiudiamo il discorso la piramide è un modello quindi quando uno si trova nei momenti in cui deve guardare la salute di una persona cara e arrivano per tutti o se stesso parte dallo stress cosa vuol dire anche un modello di priorità questa triangolo questa piramide cosa vuol dire mai sacrificare un un livello sotto per il livello superiore ci sono molti con una mentalità molto sbagliata e si vede poi si vede nei loro tweet nei tweet di ilon musk che adesso dice che le piramidi le hanno costruite gli alieni ecco mi sono dimenticato di fare l'introduzione la faccio adesso se pensate che le piramidi le abbiano costruite gli alieni siete nel posto sbagliato infatti il governo egizio gli ha detto vieni a vederle e poi ti spieghiamo anche come sono state costruite quante persone lo hanno fatto e sacrificio e tutto il resto comunque per lasciare stare le piramidi questa divagazione su ilon musk e arriviamo al perché perché è importante connettersi con profondamente che è il tema di questo corso vi darò anche un metodo una struttura per connettersi profondamente rapidamente che l'evoluzione di un modello che ho già presentato delle tre domande magiche e viene anche è un'applicazione pratica di ricerche come quella delle 36 domande per farli innamorare di Arthur Aron Aron con due A lo dico per chi deve trascrivere poi queste cose e anche per voi se volete fare delle cerche google e e quindi vi darò anche alla fine di tutto il corso un modello che potete usare sul campo ed è quello che dicevo molti problemi di questi corsi di queste cose e che vi danno 350 mila passi che non sono assolutamente applicabili da nessun essere umano e quindi vi portano al fallimento in più in più c'è un grosso problema che tutti questi metodi 1 2 3 4 non vanno bene quindi quando vi propongono delle strategie dei metodi strutturati così primo 1 fai quello 2 fai quello non va bene perché il punto in cui tu puoi avere un problema potrebbe essere uno solo all'interno di quella metodologia quindi quando tu vai a trovare il tuo personale l'apprendimento deve essere sempre incentrato sulla persona la persona deve essere sempre al centro della mappa da cui parte l'apprendimento per cui se a te manca solo il fatto ad esempio che non fai una determinata cosa oppure semplicemente sei spaventato da andare a presentarti una persona ecco ti darò delle strategie specifiche su quella quindi risolto quello il resto funziona bene perché magari sei naturalmente bravo a parlare e non hai bisogno di una strategia specifica per connetterti alle persone qualcun altro invece è bravo a iniziare l'approccio oppure va a questi ti darò una strategia che praticamente ti può far vincere negli speed dating di qualsiasi genere siano anche quelli che fanno oggi di business dating per connettersi alle persone in sostanza sono le tre domande magiche migliorate sono cinque diventano le cinque domande non sono tutte domande le cinque diciamo un approccio a cinque passi e in questo caso è strutturato perché ovviamente non vogliamo neanche essere stupidi che allora tutto deve essere totalmente destrutturato ci sono dei contesti in cui serve l'un due tre quattro però è inutile mettere gli elenchi numerati laddove non serve e quindi di base l'approccio metodologico invece che strategico fisso metodico 1 2 3 4 è proprio che il metodologico trova il punto debole e parte da te quindi se ad esempio questo mese non ti interessa l'argomento come farsi tanti amici perché ne hai già tanti oppure sei semplicemente un introverso puro come me sono abbastanza rari quelli che stai talmente bene da solo che di base non te ne frega niente comunque comunque ecco perché insisto che hna non sia una cosa che uno ogni tanto mi chiede il corso perché quello mi interessa tu non hai capito un cazzo è un percorso se se tu se io mi metto con un'ora nella tua vita di un anno e tu nel mezzo mi frequenti la valle delle menti disagiate o il concime cioè ho notato che ho fatto un esperimento anch'io il mese scorso di in hna di quello che faccio un po' anche faccio in deluxe di proporre vari link anche di autori italiani eccetera di cose valide e una delle cose che ho notato da questo esperimento è che se una persona è iscritta a un certo canale youtube a un certo like su un canale su un canale su una pagina facebook chiamiamolo del concime dei libri chiamiamolo così non ho speranze cioè se una persona si nutre di spazzatura a livello intellettuale non ho speranze l'altro aspetto per cui è importante farsi amici di qualità è che le ricerche ci dicono che siamo la tu sei la media delle cinque persone frequenti e quindi se ti vuoi migliorare che è il nostro tema di base migliorati.org se ti vuoi elevare molti dicono devi fare coelevazione elevare queste cinque persone che frequenti di più purtroppo non è così mi spiace una bella idea ma non funziona così devi trovare persone migliori migliori punto dovrei e quindi una delle cose che non ti dicono mai fanno questi grandi esperti di corsi di seduzione è che se un corso di seduzione è valido la prima cosa che ti devi insegnare è come lasciare le persone punto punto se non lo fanno già lì avrei dei seri dubbi perché vuol dire che non sono capaci che non hanno avuto che non hanno avuto la loro bella dose di stalker perché se uno è capace vedrà che quello è un problema è un problema grosso ed è un problema abbastanza ricorrente per cui questa è HNA è il seguito ideale dell'HNA sull'intelligenza emotiva ho visto molto entusiasmo su questo argomento è un argomento intermedio che passa dalla intelligenza emotiva poi alle vere e proprie tecniche specifiche di persuasione e influenza e ripeto ha a che fare col miglioramento perché vuol dire trovarsi degli amici migliori di noi che ci facciano salire ha a che fare col successo perché le persone che hanno abilità empatiche un'altra ricerca di valiant hanno guadagnano nello stesso ambiente il 2,5 2,5 volte più soldi e questo non te lo devo dire perché se lavori in un lavoro tradizionale se sei mio cliente e siccome io voglio clienti che mi entrino poi in deluxe e per esperienza raramente quelli che fanno un lavoro tradizionale entrano e ci stanno a lungo mentre gli imprenditori non hanno di solito nessun problema a entrarci e rimanerci per cui ci sono eccezioni con quelli che lavori nel mondo tech ben pagati comunque anche se è un lavoro tradizionale dovresti avere una side hustle come dicono in inglese un piccolo business un piccolo lavoretto parallelo che ti porta dentro qualcosa ma al di là di questo se vuoi la parte di successo soprattutto economico le abilità sociali ci sono e ripeto tutti quelli che hanno un lavoro tradizionale lo sanno bene perché hanno visto gente meno capace di loro salire nella graduatoria prima di loro e si incazzano è un leccaculo del capo non penso che i capi siano così stupidi qualche caso sì leccaculo ma in altri casi hanno semplicemente più intelligenza empatica e intelligenza emotiva intelligenza empatica intelligenza sociale è un'abilità che per fortuna si impara e si impara abbastanza in fretta vedremo faremo anche qualche esercizio vedremo un modello vedremo una strategia vedremo delle idee eccetera altro aspetto sempre legato a successo quindi evolvere se stessi evolvendo la cerchia quindi avendo amici migliori altra cosa ci sono ancora spesso pochi gente nel mio settore che dice bisogna avere tanti obiettivi grandiosi ecco un essere umano normale può gestire in un dato periodo al massimo di due obiettivi progetti quindi uno due per periodo poi magari a seconda di come li ha strutturati li può raggiungere in qualche mese poi passa altro però uno due obiettivi aree progetti eccetera se uno li vuole grandiosi o più di due ha bisogno di collaboratori ha bisogno di un team ha bisogno di delegare se sono appunto grandiosi per cui anche in questo senso è necessaria l'intelligenza umana di ascoltare capire le persone non ripeto come tattica come macchiavellismo vedremo che quello è uno è il primo problema il giusto atteggiamento e lo va risolto a monte quindi è necessario che a monte ci sia veramente una genuina un desiderio di collegarsi alle persone ecco l'avere le ricerche sulla felicità della psicologia positiva ci dicono anche che avere amici di qualità e anche le ricerche sulle blue zones così chiamate dove ci sono i vecchiati presente l'aspetto sociale soprattutto appunto in tardetà diventa un predittore della longevità per cui è necessario c'è da dire che tutto questo per nostra fortuna è cablato e connettersi con gli altri nel nostro essere umano e quindi la connessione è già dentro siamo lo siamo per per natura e al punto che oggi diciamo che viene sfruttata questo desiderio di connettersi dalle psicosette dalle manipolazioni nella vendita chiunque si è trovato in una high pressure sale come si chiama una vendita ad alta pressione mi sono ritrovato più di una volta ma una volta ti aspetti di incontrare una persona per qualcosa e ti trovi ad esempio l'amico invasato dal multilever ecco posso anche fare il nome perché poi fallite in italia non chiusa la bai e riscia i tempi ricordo che ogni tanto andavano questi corsi venivano sti per quello che sono molto contrari multilevel venivano pompati veniva fatto una cosa molto cattiva che non voglio descrivere in troppi dettagli perché poi rispunta a qualcuno che 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 fanno è in certi settori del miglioramento tutti quelli che fanno le camminatine sulle carbonelle ancora fanno queste cose purtroppo al desiderio di connessione la tecnica della love bomb in cui avevo promesso di fare un corso per difendere dalle psicosette di base sarebbe diventate introversi cioè se siete introversi pure non volete però la love bomb è praticamente quando arrivi in un po se tutti ti abbracciano tutti senti questo affetto chiaramente ti sballa tutta la neurochimica come altre cose che fanno per cui state attenti che la questa connessione questo desiderio umano di connettersi che nel nostro hardware viene spesso manipolato oggi come viene manipolata la nostra attenzione con i telefonini eccetera quindi non è una cosa nuova ecco e come ultima cosa devo dire che l'aspetto di non avere un funnel un numero sufficiente di persone è l'ostacolo anche oltre al fatto di non essere pro proattivi ecco diciamo questi sono gli ostacoli uno e due chi vuole diciamo sedurre nel senso chi vuole portare per dire un termine che magari le donne che ascolta apprezzeranno di più che chi vuole portare diciamo delle relazioni amorose nella propria vita che è una cosa legittima per per tutti ecco di base dopo il discorso del mindset che cos'è il mindset è l'atteggiamento mentale che uno che uno ha ecco quindi serve un giusto atteggiamento in tutto anche nel farsi gli amici serve una giusta strategia che è una strategia metodologica quindi in cui uno decide è importante avere tutta l'informazione come dicevo quindi anche quando uno non è interessato a un argomento comunque deve avere messo perlomeno nel retro del suo cervello la sua mente subconscia il fatto che questa cosa sia possibile poi arriva un momento della sua vita in cui ha bisogno di quello allora estrae quella quel corso con informazione e sceglie che cosa applicare su di sé però dicevo che l'ostacolo numero uno spesso sono i propri numeri cioè proprio questione che uno non incontra abbastanza persone da da essere da poter fare un'ottima scelta a volte uno è anche fortunato devo dire che io da introverso sono stato molto fortunato nella mia vita perché ho incontrato poche ma fidanzate ma di altissima indubbiamente qualità quindi quello è importante e ognuna mi ha insegnato mi ha fatto evolvere a uno stadio diverso l'altro ostacolo se vogliamo quindi oltre al numero il numero due se vogliamo anticipare un pochino il corso è il fatto di non essere abbastanza proattivi nel fare i contatti cioè di aspettarsi che le persone arrivino da noi oggi ci sono le app per una donna mediamente bella può anche funzionare cioè con un'app trova migliaia di contatti poi il problema delle donne tipicamente seduttivo è che loro non vogliono tanti contatti ma vogliono quella persona specifica e quindi loro diventa un problema diverso ecco diversa la seduzione femminile a quella maschile sotto certi aspetti potrei dire alle mie clienti donne fate l'opposto nel campo seduttivo di quello che dico agli uomini quindi applicate le regole opposte sotto altri aspetti no perché sarebbe una generalizzazione però parlo di quello che so e l'ostacolo numero uno non avere i numeri l'ostacolo numero due per la maggior parte degli uomini è di non essere proattivi e quindi vedremo anche in questo corso qualche esercizio per andare per primi e contattare cosa vuol dire non essere proattivo vuol dire fondamentalmente che anche se io come fanno certi vip no che io ho visto dei vip a fine con un coso dire sono sono single eccetera ma anche lì non penso abbia funzionato nemmeno per loro pur avendo lì magari una platea 2000 persone ecco il punto è che se io dovessi dire a se avete sei da 18 e 23 e se è carina contattami quante pensate che mi contattino non è così che funziona con delle eccezioni però ci deve essere comunque una connessione ecco questo corso è su come fare quella connessione e metteremo anche la componente di come diventare proattivi vedremo che gli elementi base del networking sono sono veramente pochi sono tre ecco accennerò anche un pochino di nuovo a come delegare perché rientra in questo componente quindi è un corso un sommato base meno sofisticato di altri che ho fatto anche certi aspetti cercherò di essere originale dicendo quello che fu come sempre l'aspetto pragmatico quello che funziona non funziona però molto importante come farsi tanti amici come relazionarsi alle altre persone come connettersi a livello profondo rapidamente perché perché spesso quando incontri ad esempio un vip una persona importante hai pochi minuti per fare il tuo pitch il tuo elevator pitch dicono nel tempo in cui va l'ascensore sale al piano tu devi riuscire a collegarti a tal punto che si crea l'inizio della relazione ecco vedremo quello che posso dire su questo argomento vi darò appunto una tecnica specifica in cinque passi e la base però la voglio dire qui perché è importante le persone ripeto non sono un mezzo non sono uno strumento se tu io l'ho usato spesso tanti anche 30 anni fa lo usavo come battute in treno dicevo tu sei gnocca e ti tengo tra gli amici devo dire che facevo un po' di cabaret per tenere vivo il lavoro dello studente pendolare insomma per tenerli un po' vivi nel vagone con molta pena facevo un gran casino qui con molta pena dei poveracci che ci dovevano ascoltare perché erano tu sei intelligente quindi mi spieghi della scuola del corso e ti tengo poi guardavo il mio amico gnieppo e gli dicevo ma tu gnieppo a che cazzo servi gnieppo gli dicevo tra i miei amici non mi serve ecco in quel contesto rendevo il machiavellismo ovviamente siamo ancora amici anche se ci sentiamo poco una battuta per cui veramente alla base ci deve essere l'opposto perché esiste una triode oscura ma esiste anche l'opposto che una triode angelica in cui veramente diventi una persona e questa è la base del connettersi avere tanti amici che care deeply che si prende cura profondamente che dentro di sé vuole veramente il bene e il meglio per le persone che incontra e quindi cosa fa le serve ecco questo è l'aspetto importante veramente di voler connettersi agli altri perché sia una persona di questo tipo perché se uno che alla fine lascia sempre comunque le persone anche se dicevamo se siano amici certe persone certe le dovremmo lasciare le lascia comunque meglio come ho sempre detto nei corsi di come le ha trovate che comunque le ha servite sotto certi aspetti continua a servirle dando delle indicazioni per cui questo è tutto per la parte gratuita spero che andiate lì clicchiate nel link paypal guardate l'importo non vi spaventate perché l'importo è l'equivalente di una cena e se imparate a riconnettervi bene alle persone quella cena non la dovrete pagare per cui i corsi si dico sempre si pagano da soli se uno evolve li usa oppure arriva al punto che quegli importi devo dire che i miei importi a parte se uno mi ingaggia per delle consulenze ma deve essere per forza un altro mondo un altro ambiente infatti li faccio di solito nel mondo dell'arte di fascia alta al momento costano poco cioè anche chi sia buona al massimo in un anno alla fine se fosse anche un operaio mi dà più o meno il suo stipendio di un mese e ovviamente una scelta libera per cui ecco un ripeto i con hna in un anno tutto sommato il costo contenuto e soprattutto i contenuti sono di alto alto valore faccio del mio meglio per dare veramente non solo una come vedete sentendo di parlare una una logica ma anche l'aspetto profondo di quelle parole col contatto con le motività eccetera ingranare le cose nelle persone soprattutto da cose che sono utilizzabili sul campo non delle seghe mentali che pragmaticamente non servono a niente per cui se te lo puoi permettere in questi tempi eccetera eccetera è importante secondo me nutrire quando parliamo nella piramide di nutrizione è la stessa cosa dell'apprendimento cioè non può essere separata quella fisica da quella mentale come dicevo chi mangia pessimo cibo mentale chi mangia cibo spazzatura mentale non ho nessuna possibilità di aiutarlo anche se si scrive che ne ha quindi primo passaggio di guadagnare tempo e sanità mentale evitando stronzate galattiche online e per favore ilon abbassa un po la micro dose di lsd perché è presa un po troppa grazie e questo è tutto per questa questa settimana questo mese anzi per voi questo è tutto e spero di vedervi dall'altra parte ciao